Buongiorno a tutti, qui è Arduino Schianato, sempre da hereforex.com e questo è un altro video sul trading dedicato alla price action, quindi il mio metodo di lavoro e che da ormai 10 anni o forse qualcosa in più stiamo divulgando in Italia con il sito hereforex.com Detto questo, oggi la mia attenzione sarà quella di mostrarvi un setup molto particolare ma anche molto semplice da identificare però che ovviamente necessita un pochino di tempo e di esperienza e soprattutto come cerco di sottolineare sempre la contestualizzazione del mercato che si ha di fronte L'esempio che vado a mostrare oggi è sull'oro, sull'oro daily, quindi il grafico che ci mostra l'andamento dell'oro di ogni singola giornata Ovviamente questo tipo di setup va sempre visto su time frame daily o weekly in questo caso e quindi time frame alti, non stancherò mai di ripetervelo e il tipo di setup è la inside bar, però un po' particolare Allora, se andiamo a prendere la classica inside bar è quella barra Vi faccio un disegnino Eccola qua Che sta all'interno Quindi questa qui che vedete qui è l'inside bar Che sta all'interno quindi della barra madre Cioè di questa All'interno per me significa che sia il massimo che il minimo Ok? Sta a inglobare, sta a inglobato della prima Quindi la prima, questa, la mother bar MB, mother bar Ingloba completamente la seconda che viene chiamata IB in price action, inside bar Ok? Quindi c'è una struttura di questo tipo Quando c'è una struttura di questo tipo Avrei visto anche alcuni seminari, webinar, corsi Magari hai fatto anche la coaching con me Comunque è un tipo di setup che ci sta indicando in maniera molto semplice Molto concreta una compressione di volatilità È ovvio che questo tipo di setup va guardato sempre su time frame alti Meglio degli weekly Poi c'è il 4 ore e sapete come lo vado a lavorare Quindi in questo caso inside bar è quella barra che sta all'interno della madre Quindi della barra precedente Con massimo e con minimo Non mi interessa il corpo Massimo e minimo Benissimo Che cosa succede? Dopo una compressione di volatilità Tendenzialmente può avvenire o un movimento molto ripentino da una parte o dall'altra O un fake out Ecco perché poi nasce l'inside fake out eccetera eccetera Ma in questo caso non vado a raccontarvi il setup inside bar classico Ma un certo tipo di inside bar che in realtà non è così frequente Ma quando capita conviene che gli date un bel occhio Magari analizzate bene la struttura del mercato E per struttura qui in price action in near forex andiamo a significare per struttura il trend I livelli di domanda offerta tra parentesi non sono per forza i livelli di supporto e resistenza Chiudo parentesi Quindi se io mi trovo di fronte a una situazione come questa guardate un po' che ho un movimento Tra l'altro arrivavamo da un movimento di allungo nei prezzi quindi ho un 1 e un 2 E poi c'ho un swing che fa il numero 3 che è fatto con una barra pin Eccola qua Ok? Cosa succede dopo la barra pin? Mi crea dopo la barra pin un inside E in realtà successivamente mi crea una nuova inside Quindi io dopo la pin se voi andate a vedere bene ho 2 inside Ok? Quindi il setup che voglio farvi vedere oggi è l'inside bar dopo pin bar Un bellissimo tipo di setup che può essere assolutamente utilizzato Io lo ho nel mio piano di trading e assolutamente va utilizzato se ovviamente si è capaci di fare price action Ok? Bisogna fare esperienza e ragazzi ve lo dico sempre L'esperienza è tutto è fondamentale Quando si fa trading in qualsiasi tecnica, strategia, metodologia, approccio Io sono per il keep it simple Sapete? Perché per me mantenere semplici le cose è assolutamente la regola 1 Ok? Del mio trading Keep it simple Quindi manteniamo le cose semplici e cerchiamo di capire cosa ci dicono i grafici Quindi abbiamo un movimento di 1, 2, 3 Abbiamo una pin bar e dopo la pin bar Questa pin bar è seguita da un inside bar E un'altra inside bar Cioè entrambe le barre stanno all'interno della barra madre Che in questo caso è una pin bar Ok? Quindi nel caso in cui io non sia entrato su questa pin bar Perché magari aspettavo il breakout Perché attendevo su 4 ore e non mi ha dato niente Per qualsiasi motivo non sono entrato Nel momento in cui mi si crea già la prima inside Io posso cercare l'entrata breakout sulla pin bar Quindi mi crea la inside Benissimo Dopo questa barra posso decidere di inserire un ordine buy stop A rottura del massimo della pin bar E in questo caso poi ovviamente bisogna fare un po' di conti del mercato Della volatilità Ma si può già andare a inserire Lasciando un po' di spazio, un po' di tolleranza Lo stop non sotto il minimo della pin Quindi sotto il swing Ma direttamente sotto il minimo della inside bar Successivamente che cosa occade? Il giorno successivo che ho inserito l'ordine Non mi va a eseguire il mio ordine E quindi che faccio? Vado a spostare esclusivamente Cioè vado a togliere il mio ordine E inserirne uno nuovo in realtà Perché? Perché dovrò ricalcolare la size Cioè se io voglio sempre rischiare l'1% del mio capitale In questo caso specifico Dovrò ovviamente fare che cosa? Andrò sempre a comprare a rottura della mia pin bar Ma lo stop in questo caso non sarà più qui Ma sarà sotto qui E quindi dovrò ricalcolare l'1% Magari abbassando leggermente il lottaggio di posizione Per far sì che avrò sempre un rischio dell'1% del mio capitale Ok? Ma avrò invece magari Non so Di tre lotti Avrò due e mezzo per esempio in questo caso Quindi avrò un rischio Uguale in termini percentuali sul mio capitale Che dedico al trading Ma avrò un po' meno lotti Position sizing Che cosa succede? Che poi vengo eseguito Eccolo qui Il giorno seguente Boom! Mi esegue proprio qui Benissimo E poi il giorno dopo inizia un movimento Rialzista Molto molto chiaro Molto forte È ovvio che in questo caso specifico Poi dovrò gestire la posizione in un certo modo E Se sono entrato Ovviamente avrò un progetto di trading Quindi saprò anche dove uscire E tendenzialmente Quello che noi andiamo a ricercare Ve lo ricordo sempre È di andare a prendere sempre delle potenziali operazioni Da risk reward Almeno di 1 a 1 O superiore Meglio superiore ovviamente Però Non dimenticate mai che quella cosa è importantissima Quindi in questo caso Per esempio Se vado a posizionare il mio Fibonacci Che mi indica i livelli di target Eccolo qui Vedrete che Nell'area dove c'è il mio livello chiave principale Una volta che è passato quest'area qui Io avrò quindi La presa di profitto Che va tra La zona T5 E la zona T6 Che è la zona questa Quindi io posso tranquillamente Andare a inserire il mio target su quest'area E se voi andate a fare Due conti Di quello che è Un po' il movimento Del prezzo E quindi andiamo a prendere il righello Eccolo qui Vedete Se fossi entrato su questo Sulle breakout della PIN E avessi inserito Lo stop Vedete qui Sul 76.4 Di ritracciamento della PIN Quindi 2300 punti Che sono praticamente In realtà 23 dollari Di oro Comunque Guardiamoli come ce lo scrive la Come ce lo scrive la piattaforma Metatrader 2300 punti Per andare a prendere un target Magari a T5 Qui Di 4940 punti 4900 punti Quindi Rischiamo 2300 Per ottenere 4800 4900 Quindi un rischio rendimento Che addirittura supera L'1 a 2 Molto interessante Questa cosa Quindi perché La potenziale Profitto Il potenziale profitto Nel momento in cui Si viene a creare Una strategia Inside bar Dopo pin bar È sicuramente È sicuramente interessante Proprio perché Oltre a darci una conferma Che se rompe la pin Molto probabilmente Ci sarà un aumento Della volatilità Quindi Dalla Dalla pin Abbiamo avuto un swing Una falsa rottura Poi magari abbiamo La compressione Di volatilità Data dalle barre Inside In questo caso È un cluster Inside Quindi ancora di più Se è un cluster Boom Allora io vado a inserire Il mio ordine Avrò uno stop La cosa bella Che avrò Praticamente sempre Uno stop Molto minore Della pin A volte la metà A volte un po' di più A volte un po' di meno Ma questo ci Può dare la potenziale Nella operazione Un potenziale Risk reward Quindi il rapporto Tra il costo dell'operazione Il mio stop E il ricavo possibile Veramente Molto interessante Solitamente È un minimo Di 1 a 2 Se non superiore Quindi Assolutamente Questo tipo di strategia Di price action Deve essere inserita Nella vostra cassetta Degli attrezzi Noi nel platino Nella nostra scuola platino Cerchiamo di Quando Escono questo tipo di Situazioni Di farle Di spiegarle Di andare a tradarle insieme Perché noi crediamo Nella pratica Oltre che alla teoria E quindi Ecco Se vi piace la price action Potete approfondirla Oltre che con questi video Anche attraverso Il live trading Che facciamo nel platino E tutte le spiegazioni Che diamo Bene Direi che anche per oggi È tutto Io A questo punto Non mi resta Insomma Che Congedarmi Salutarvi Prima di salutarvi Vi chiedo Di mettere un mi piace Se il video ovviamente Vi è piaciuto Se magari Vi sarà utile Nella vostra operatività Con la price action E Iscrivervi al canale Ovviamente Se non l'avete ancora fatto E commentare Ovviamente Perché ci fa sempre piacere Un dialogo con voi Io a questo punto Vi saluto Vi auguro Una buonissima giornata E ci vedremo Al prossimo video Ciao a tutti